I did what I... Gugu! Il film Nino is... Si los tibereis consiguen completare il codigo genetico, volverán a reproducirse y pondrán en peligro la inteligencia artificial que gobierna el planeta. Pronto, pronto! Silvia! Pronto, hanno attaccato! Hanno attaccato! Spesse nuvole di fumo si levano dalla zona del Ministero della Cultura, poi l'attacco si estende in tutti i distretti della capitale. Panico ovunque, la gente è stata presa di sorpresa dal precipitare degli eventi. It's nice. And the Oscar goes to... Roberto! Roberto! A 41 anni è morto per un infarto, mentre dormiva Massimo Troisi, attore simbolo del cinema italiano. Aveva recitato sino all'ultimo, con il cuore estremato, interpretando il postino per cui è stato candidato all'Oscar e che ha conquistato anche l'America. E che sempre ci commuove come la poesia con cui lo ricorda Roberto Benigni. Oh Massimino, io ti tengo in serbo, fra ciò che il mondo dona di più caro, ha fatto più miracoli il tuo verbo di quello dell'amato San Gennaro. Questa è strada in discesa... Questa è strada in discesa... Questa è strada in discesa...